Certo, lo scopo è questo, è proprio far capire che cos'è l'inclusione e come si può fare l'inclusione semplicemente attraverso lo sport. Lo sport è quella che incrementa a parte ogni tipo di barriera. Quindi proprio per questo motivo noi utilizzeremo lo sport per far capire come si può superare le barriere e facendolo tutti insieme lavorando con la squadra. E lo significa per te che legge le controlli? Eh, sono un po' preoccupante. Infatti guarda, il nome è la mia maniera. Ok, te la compi la mia mia per WhatsApp? Totti Dieci? Totti Dieci, chiaramente, perché l'avevo scelto questa roba prima che arrivassi, che sapessi che, insomma, non doveva venire all'inizio Francesco, l'avevamo invitato, non mi aspettavo di spondersi di sì e poi avevo già scelto il mio nome. Poi è arrivato lui e quindi a lui ho messo The Real Totti Dieci e io solo l'avevo scelto in sé. Che messaggio vuoi mandare a chi si è a finitare lo sport? Beh, lo sport fa bene, lo sport per divertire, lo sport ti insegnare a stare in squadra, lo sport ti insegna a stare in squadra, lo sport ti insegna un sacco di cose e proprio per questo motivo noi utilizziamo lo sport per abbattimento di un tipo di barriera.